Siamo nello stand Honda, siamo in compagnia di Cristian Pellegrino, il General Manager Motor Europe Italia. Ti chiedo subito qual è la grande novità del 2018. La grande e importante novità di quest'anno è il rinnovamento di tutta la gamma delle motorizzazioni V6 declinate nelle forme del 175, del 200, del 225 e del 250 CV sia con motorizzazione in forma 3-by-wire sia meccanica. Il 250 CV dal nostro primo lancio del 2011 è sempre stato leader in contrastato di mercato nella sua categoria con una quota che ha sempre oscillato tra il 25 e il 32%. Quindi per noi è una motorizzazione centrale ed è il nostro top di gamma. Honda quest'anno quindi al salone nautico di Genova è riuscita a portare in un motore solo sia la novità e sia quello che ha reso Honda perlomeno negli ultimi anni davvero importante in tutto il mondo. Le nostre motorizzazioni V6 da questo punto di vista infatti sono state sicuramente molto apprezzate non solo in termini di affidabilità e bassi consumi che ci vengono riconosciuti come caratteristiche qualitative da diversi anni ma soprattutto in termini di prestazioni perché queste motorizzazioni una volta che vengono apprezzate dai clienti esprimono una brillantezza e un'esuberanza che poi non viene più lasciata e quindi a clienti già acquisiti si aggiungono clienti provenienti di altri brand. Naturalmente Honda non espone solo questo modello ci sono tantissimi modelli, una vasta gamma di prodotti e possibilità per il cliente io ringrazio tantissimo Cristian Pellegrino questo è lo stand Honda, questo è il salone nautico di Genova 2018. Grazie a tutti.